Un vero e proprio allarme sociale da non sottovalutare che rischia di mettere in difficoltà e neguai tanti giovani salernitani. Incontrando la consulta provinciale degli studenti nell'ambito dei dialoghi di legalità a Palazzo di Governo per spiegare il funzionamento della macchina statale sul territorio e in particolare il ruolo rivestito da prefettura e questura di concerto con le forze dell'ordine, il prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone ha ricordato come cresca il numero di giovani che vengono segnalati come assuntori alla prefettura di sostanze stupefacenti per le quali molte volte sono spinti a delinquere diventando la monodopera della criminalità per la quale la droga è linfa vitale. Lo scorso anno circa 2000 giovani convocati qui in prefettura perché assuntori di droghe ed è un dato enorme, giovani che poi molti dei quali venivano per la terza, la quarta, la quinta volta in un colloquio con gli assistenti sociali qui in prefettura ed è un qualcosa di molto negativo. Si tratta di giovani, sono gli stessi giovani che provocano gli incidenti stradali a sumento droga, sono gli stessi giovani che per procurarsi la droga rapinano i supermercati, sono gli stessi giovani che in definitiva finanziano la camorra perché la camorra si serve della droga come sua prima attività di sostentamento. L'era definita linfa vitale per la criminalità organizzata? L'era definita linfa vitale per la criminalità organizzata ed è vero perché accanto alle estorsioni, accanto ad altre cose è uno dei mezzi di sostentamento e purtroppo trova tanti tanti adepti, tanti giovani. Io stavo dicendo a questi ragazzi che non vi è disagio sociale che tenga, non vi è incomprensione che tenga perché la droga è quello che porta, lo sappiamo tutti.